E questa mattina un settimo parco di quartiere a Pesor si è arricchito di un altro gioco per bambini donato dalla Onlus Gulliver attraverso il progetto Altrogiro. Due altalene nuove di zecca, due doni alla città, gli ennesimi della Onlus Gulliver che un po' in tutti i quartieri cittadini continua a installare nuovi giochi per bambini. Oggi ad esempio siamo al parco Campo di Marte di Baia Flaminia e qui si è verificato l'ennesimo episodio di Altrogiro. Questo progetto che attraverso i ricavati delle attività della Onlus Gulliver, centro del riuso e altre attività, porta poi alla donazione di questi progetti concreti per la comunità. Qui a Baia Flaminia è il settimo gioco appunto donato dalla Gulliver alla città. Devo dire che la città sta rispondendo perché le donazioni sono state tante tra domestici, di mobili, di abbigliamento e parte insomma del ricavato di questa vendita viene destinato alla comunità. Quando si regala un gioco è un gesto apparentemente semplice, facile però che dà grande soddisfazione ai bambini, ai genitori, ai nonni e soprattutto anche a chi ha donato qualcosa alla Gulliver. Stiamo andando avanti, io pensavo che non durasse così a lungo, invece ripeto siamo arrivati al settimo gioco, dovremo inaugurare a breve a Borgo Santa Maria un altro scivolo e poi ci hanno chiesto insomma di segnalare quelle che possono essere le esigenze della città. Quindi grazie ancora a chi dona e soprattutto grazie a Gulliver e ai tanti volontari che danno una mano alla città. Altro giro è donare giochi e solo per una delle tante attività della Onlus Gulliver, attività che si moltiplicano come quelle legate alla accoglienza dei profughi ucraini. Aiutiamo tantissime persone sia nel pesarese che ultimamente purtroppo abbiamo a che fare anche con tantissime famiglie provenienti dall'Ucraina. Bruttissimo periodo e quindi noi come associazione doniamo sia discorso di cibo, quindi anche discorso di pannolini omogenizzati perché purtroppo arrivano anche tantissimi bambini. Più doniamo anche ovviamente tutto gratuitamente, abiti uomo e donna e ovviamente per i bambini. Tante attività che la Gulliver non potrebbe realizzare senza il crescente apporto dei volontari. Volontari che arrivano anche dall'estero come Fabrizio e Morgan dalla Germania e dalla Francia. Ho cercato su internet e ho trovato il progetto in Europa con Vicolo Corto e Gulliver. A Gulliver sono qui per aiutare le persone e con le altre ragazze ho iniziato un progetto che siamo Borsi da Mariette. Voglio dare un contributo alla società, per questo faccio questo progetto di volontari per aiutare la gente per contributare.